Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Approfitto del fatto che questa settimana di giovedì c'è l'Ucronia e quindi non c'è la solita recensione per provare a fare una recensione storica, cioè partire da un prodotto, in questo caso una di quelle docudrama, dei documentari che però hanno delle parti che sembrano delle fiction, tra poco ne parleremo meglio per intenderci per chi si ricorda la recensione tipo Cleopatra, così ci capiamo, una serie che mi avete consigliato in tanti prima ancora che uscisse e mi sto ancora chiedendo se me l'abbiate consigliata perché realmente pensavate che sarebbe stata una bella serie o perché già pregustavate il fatto che a me avrebbe fatto inorridire. Ora, non voglio dirvi che la serie di cui andremo a parlare, cioè la serie dedicata ad Alessandro Magno uscita il 31 gennaio, quindi pochi giorni fa, su Netflix sia una serie bella, tutt'altro, come vi racconterò dopo, dopo appena 12 minuti di una serie che è fatta di svariate puntate da 50 minuti, già avrei voluto tagliarmi le vene perché avevo visto tanta di quella schifezza sia dal punto di vista documentaristico che dal punto di vista storico che anche solo dal punto di vista meramente recitativo che non avrei voluto andare avanti e se sono andato avanti è solo perché a quel punto ho detto boh, la recensione la faccio ma devo ovviamente continuare a vederlo. Ecco, mentre però mi trovavo a guardare quella serie e ripeto già mi stavo preparando per gli insulti mi sono ricordato di un'altra serie che avevo visto sempre su Netflix qualche mese fa dedicata in questo caso alla Seconda Guerra Mondiale che si chiama Seconda Guerra Mondiale Voci dal Fronte una serie a cui inizialmente volevo dedicare un piccolo short ma che a questo punto andremo a incastrare in questa recensione che pur non essendomi piaciuto tantissimo mi ha però lasciato qualcosa e devo dire che almeno qualcuno la consiglierei. Perché mettere insieme queste due serie così diverse e dai due giudizi così diversi? Perché come vorrei raccontare, ragionare con voi alla fine di questo video sono secondo me una perfetta base per iniziare a parlare di un argomento cioè un appassionato di storia oggi come oggi che cosa si aspetta da un prodotto televisivo documentaristico o meglio quello che oggi la tv, tv pubblica, pagamento, piattaforme di streaming, tutto quello che volete propone un appassionato di storia e ancora qualcosa che realmente può dare qualcosa di interessante ormai sono prodotti completamente superati e che avrebbero bisogno di essere cancellati dalla faccia del mondo beh, proveremo a ragionarci insieme. Quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video sigla e poi partiamo dal primo, cioè partiamo dall'arrabbiarci per parlare di Alexander che poi io continuo a chiamarla Alexander perché ho un ricordo di un bellissimo cartone animato molto particolare per carità però secondo me molto bello cioè le cronache di guerra di Alessandro il Grande che si chiamava appunto Alexander ma magari ne parleremo in una futura recensione ma in realtà il nome di questa serie di episodi di questo documentario è Alessandro Magno come nasce una leggenda che vi giuro titolo più didascalico e più grutto facevano fatica a trovarlo ad ogni modo questo non è in effetti un documentario ma un po' come capitava per Cleopatra se ricordate la recensione è una docu fiction, un docudrama, un docu qualcosa, chiamatelo come volete cioè tradotto è un documentario mischiato ad una fiction. In che modo? Nel modo che la maggior parte delle scene sono girate con attori che interpretano i vari personaggi Alessandro, Filippo, la madre Olimpiade, Cersei, i suoi generali e così via che sono però intervallate anche perché in realtà non è un film ma sono tutte scene staccate che sono intervallate da degli esperti, degli storici che come nei classici documentari seduti con telecamera fissa raccontano, spiegano meglio quello che sta capitando. Ora, questo tipo di prodotti che è molto diffuso nei documentari soprattutto quelli fatti nel mondo anglosassone esiste teoricamente anche da noi, anche la RAI se fate caso spesso lo fa anche se in quei casi di solito la parte documentaristica occupa circa i due terzi della narrazione e ci sono poi anche scene sul campo, gli oggetti, chi presenta e così via magari intervallate a delle scene tratte da film o da fiction cioè cose che esistono già, che sono ben recitate, ben scelte e che vengono poi utilizzate per intervallare la parte prettamente documentaristica. In quest'altro tipo di prodotto invece le scene sono girate appositamente e teoricamente dovrebbero essere il cuore della narrazione perché, immagino, nella visione di chi crea questi prodotti è il modo migliore per tenere incollati alla sedia gli spettatori e insegnargli qualcosa attraverso quello che alla fine è non molto dissimile da un film insomma, teoricamente dovrebbe essere il modo migliore per insegnare la storia il problema è che magari sarebbe anche il modo migliore per insegnare la storia anche se se posso esprimere un parere a me ormai puzza di vecchio in un modo terrificante ma dovrebbe essere fatto bene per poter insegnare la storia e soprattutto la parte filmica dovrebbe avere una quanto minima aderenza a quello che sta raccontando e soprattutto dovrebbe essere ben girata perché se la qualità della parte filmica è orribile e quella parte filmica occupa più di due terzi del totale gli esperti possono anche dire cose intelligenti e vi dico già che forse il montaggio è venuto male ma non è sempre vero ma poi il prodotto fa schifo perché se due terzi è rappresentato da scene in cui ci sono degli attori che recitano come dei cani vestiti come se fossero comparse del Benny e il show capite che forse qualcosa non funziona ora, come dicevo, dopo 12 minuti di visione del primo episodio già mi ero reso conto che era stata fatta un'altra operazione Cleopatra cioè era stato fatto di nuovo un prodotto molto scadente dal punto di vista storico che probabilmente avrebbe puntato molto su eventuali critiche massimaliste per riuscire ad attirare ascolti e che soprattutto era pieno di ciofeche storiche in un modo inimmaginabile allora partiamo dall'inizio c'è questa prima scena vi racconto velocemente questi 12 minuti perché veramente ci sono tutti i vari punti delle cose che poi non funzionano anche successivamente la prima scena è ambientata nell'oasi di Siwa dove una donna, una sacerdotessa con la classica introduzione di tutta la serie dice che la serie avrebbe raccontato la storia di due personaggi che sono Alessandro Magno e Serse i quali, Serse terzo i quali erano molto simili fra di loro salite al potere quasi in contemporanea e che si sarebbero però affrontati per i destini del mondo ora, tutto questo può anche essere interessante l'idea di raccontare la storia di Alessandro Magno limitatamente al suo scontro a Serse il problema è che punto uno la serie si chiama Alessandro Magno e in effetti in realtà nella serie si concentreranno soprattutto sulla parte che va da quando Alessandro Magno invade la Persia a quando alla fine sconfigge Serse il prima e il dopo viene pesantemente tagliato togliendo così, secondo me, almeno due terzi delle parti più interessanti della vita di Alessandro Magno ma tra poco ne parleremo l'altro problema è che non solo il personaggio di Serse già di suo, diciamolo chiaramente è un personaggio poco interessante perché non è un re dei re così interessante da scoprire certo è un personaggio tragico ma diciamolo, è praticamente la spalla delle avventure di Alessandro Magno quindi non è in grado di equivalerlo come forza cioè queste cose funzionano quando ci sono due protagonisti molto forti ma nella serie il personaggio di Serse non è neanche veramente ben raccontato continua a comparire come una specie di manichino rigido, muscoloso, con la sua barba che si sposta una volta nel palazzo una volta nel campo di battaglia e che non prende mai realmente un'iniziativa ma con una voce triste, uno sguardo perso commenta che cosa sta facendo Alessandro Magno insomma, se il senso della storia è raccontare lo scontro tra i due lo stai facendo malissimo se il senso della tua storia era raccontare Alessandro Magno forse potresti farlo in un altro modo ad ogni modo, passiamo a questa prima fase passiamo al primo minuto e mezzo in cui per introdurre Alessandro Magno si va ad Alessandro d'Egitto che viene più volte definita la città che Alessandro Magno ha costruito la città dove scavando si può trovare ancora tanto che ci racconta Alessandro Magno tanti suoi reperti e lasciamo stare il fatto che è una scemenza perché per carità Alessandro Magno la fondò la città ma poi venne resa quella meraviglia dell'antichità che era da Ptolomeo e dai suoi successori non sicuramente da Alessandro che lì non è che rimarrà per tantissimo tempo ma lasciamo stare questa cosa capisco che serviva per introdurre finalmente è il momento di parlare di Alessandro Magno ora se voi voleste iniziare a raccontarlo e voleste fare un documentario ben fatto secondo me dovreste iniziare a dare un piccolo inquadramento storico dire chi era Alessandro Magno chi erano i macedoni quali erano i rapporti tra i macedoni e i greci tutte cose interessanti anche magari per introdurre un personaggio come quello del padre Filippo II che diciamolo nella vita di Alessandro Magno ha avuto un ruolo molto 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 importante in realtà no in realtà il nostro docudrama inizia con due uomini a torso nudo che si prendono ammazzate con delle spade degli scudi la scena diciamolo chiaramente non ha nessun senso perché viene introdotta da poche parole che dicono che Alessandro intorno ai 20 anni si era allontanato dalla corte paterna e viene detto chiaramente che si era allontanato segnatevelo poi vi spiegherò il perché si era allontanato perché stava cercando se stesso stava cercando il suo posto nel mondo viene detto questa cosa i due si pestano si picchiano e alla fine dopo mentre sono del fiume che si lavano iniziano a baciarsi ora i due sono Alessandro Magno e Defestione e tutto questo serve per far sì che la prima cosa che viene detta di Alessandro Magno è legata alla sua omosessualità ora come ho già detto più volte credo che me lo abbiate capito per me chi se ne frega e per carità potrei dire che è sempre uno di quei discorsi che vengono molto semplificati cioè un personaggio come Alessandro Magno secondo me inquadrarlo come omosessuale o eterosessuale è in generale una grossa limitazione sia in un senso che nell'altro e probabilmente per molti personaggi questa cosa vale e per carità se hai deciso di raccontare Alessandro Magno partendo da questo punto sei liberissimo di farlo il problema è che quella scena è talmente buttata a caso con tanto di sole che rimbalza sul fiume con i due che si baciano e così via che è una scena a parte che sembra la brutta copia di Brokeback Mountain che quello è un bel film che riesce a raccontare bene una storia mentre questa è solo una scena mal girata che la scimmiotta però al netto di quello è una scena che è palesemente messa dopo cinque minuti con il solo scopo di far indignare è una scena che è palesemente messa per far sì che qualcuno veda per carità decerebrato lasciamo stare qualche omofobo veda quella scena e vada su Twitter a dire ecco questo è il mondo woke che vogliono che nelle serie ci siano solo personaggi omosessuali ora non è il modo giusto per affrontare l'argomento perché in un mondo perfetto non avresti neanche bisogno di affrontarlo cioè chi se ne frega lo dice a un certo punto che Alessandro Magno aveva probabilmente era probabilmente attratto sia dagli uomini che dalle donne e la cosa dovrebbe essere normale per tutti dato che però purtroppo siamo in un mondo in cui qualcuno pensa ancora che tutto questo non sia normale magari ne puoi parlare ma ne parli ripeto quando arriva il momento giusto non inizi in questo modo perché ripeto è proprio un modo furbo fatto semplicemente per far parlare cioè tu ti rendi conto che il tuo prodotto probabilmente fa schifo e scadente e quindi per poterne parlare decidi di puntare tutto sulle polemiche gratuite aveva funzionato per quella porcheria di Clopatra vuoi che non funzioni per questo? ecco secondo me potrebbe non funzionare semplicemente perché tutte le polemiche su Alessandro Magno omosessuale le abbiamo già fatte quando è uscito Alexander di Oliver Stone prodotto che nonostante a tanti non piaccia rispetto a questo è milioni di anni luce avanti sotto tutti i punti di vista compreso quello storico compreso quello storico ad ogni modo subito dopo dopo che i due si sono baciati una voce fuori campo dice Alessandro Magno era lontano da corte perché si era esiliato allontanandosi e uno dice ma come? un minuto fa sì adesso nel video a voi sono passati 4-5 minuti ma là nel video è passato un minuto un minuto fa mi hai detto che era lì perché stava cercando se stesso come si era esiliato e sì perché era stato richiamato alla corte del padre dopo dopo che si era esiliato ok io ovviamente sapendo la storia continuavo a dire ma perché continuate a dire ste scemenze perché continuate a dire ste scemenze dopodiché mentre Alessandro Magno va alla corte del padre una terza voce ovviamente di uno degli esperti racconta finalmente che ad esiliarlo era stato il padre era stato Filippo ma caspita è un documentario ma nessuno ha fatto un minimo check di coerenza con quello che state dicendo cioè che uno dica una cosa il secondo ne dica un'altra e il terzo di una terza versione non va bene cioè o mi dite non siamo certi di questa cosa ci sono queste tre possibilità ma se dai tre versioni diverse nel giro di tre minuti scarsi vuol dire che sei sicuro che chi ti sta seguendo o si è già allontanato schifato da quello che sta guardando oppure ha staccato il cervello e non ti ascolta nemmeno e tutto questo continuerà molte volte perché non solo ci sono delle cose che dal punto di vista storico fanno raccapriccio ma è piena la serie di momenti che si contraddicono l'un l'altro ve ne faccio un altro che avviene peraltro sempre in questi famosi 12 minuti la scena successiva è ambientata durante l'omicidio di Filippo II Filippo II che peraltro ripeto nonostante sia un personaggio importantissimo per la storia di Alessandro Magno compare a schermo per 30 secondi al massimo giusto per essere ammazzato lasciamo stare che non hanno avuto neanche il buon gusto di fargli un minimo segno vicino all'occhio giusto per ricordare una delle caratteristiche più note di Filippo II che in questa serie ha entrambi gli occhi non ha nessun segno di ferita vicino che possa spiegare perché sia cieco da uno dei due ma questo lasciamo lo stare ad ogni modo dopo c'è la scena della morte di Filippo e la scena in cui Alessandro Magno viene si autonomina sovrano subito dopo viene mostrata la seconda moglie di Filippo II euridice sapete che Filippo II aveva avuto Alessandro Magno da Olimpiade ma si era poi risposato risposato aveva preso come moglie una donna molto più giovane figlia di un suo generale che gli aveva dato un figlio donna che verrà uccisa subito dopo la morte di Filippo II bene l'esperto dice che in una scena qui si vede euridice in una vasca palesemente morta la classica morte nella vasca per taglio dei polsi lasciamo stare però al netto di questo l'esperto dice che euridice non aveva retto alla morte del marito e si era suicidata ora io dentro di me stavo già dicendo ma tra tutte le versioni della morte di euridice che sono più o meno quasi tutti gli storici concordi nel dire che sia stata in realtà molto probabilmente eliminata da parte di Olimpiade o di Alessandro Magno o di chi per loro ma perché avete scelto proprio quella del suicidio? Bene non avevo ancora avuto neanche il tempo di rendermi conto di pensare di questa cosa che i personaggi a schermo quindi la parte drammatica la parte recitata ha smentito le parole dell'esperto dicendo in maniera più precisa facendo capire che invece a farla morire era stata la madre di Alessandro Magno cioè Olimpiade cosa che un secondo esperto subito dopo conferma ora ripeto non dovete farci impazzire dandoci versioni diverse della stessa cosa senza motivarle perché altrimenti non sembrate delle persone che vogliono raccontare tutte le varie possibilità sembrate solo dei cretini che dicono cose diverse nella stessa frase e tutto questo in un documentario non funziona mi rendo conto di non aver ancora parlato della parte drammatica ma la parte drammatica è drammatica nel vero senso della parola partiamo col dire che è recitata malissimo a me spiace ma io sti attori non so dove li prendono capisco che vogliono prendere degli attori pagati poco ma santo cielo fateli recitare un po' meglio è pieno di attori bravi a recitare ma dovete veramente scegliere della gente che non sa fare un'espressione realistica lasciamo stare che di soldi per girare quelle scene ce ne sono pochi cioè è veramente più onesta la Rai che prende degli spezzoni di vecchi film ma qua dobbiamo fare delle scene con dobbiamo credere che la corte di Macedonia abbia 15 persone sia fatta da 15 persone in una stanza dobbiamo credere che nelle grandi battaglie siano dei combattimenti fra 20-30 persone contro 20-30 ma ci sono delle scene veramente comiche ce n'è una bellissima in cui uno è un generale persiano al fianco di Cerse se non sbaglio durante la battaglia di Isso ma potrei sbagliare ad un certo punto riceve da Cerse l'ordine di avanzare e di attaccare i macedoni e lo vediamo urlare uomini seguitemi e dietro di lui tre comparse che partono di corse e tu dici ma quanti siete nell'esercito di Cerse 30 persone che un generale parte con tre comparse all'attacco poi le battaglie sono ovviamente il caos più totale perché vedere una falange macedona è impossibile le battaglie sono un po' di polvere con della gente che si pesta completamente a caso cioè 300 a confronto è una serie che ti fa vedere le tattiche greche tanto per intenderci un film che ti fa vedere le tattiche greche c'è un po' di gente che si pesta a caso e ogni tanto c'è Alessandro Magno un suo generale a cavallo che muove la spada a caso di un brutto veramente inenarrabile non si può vedere una cosa del genere e poi ovviamente tutto quello che accompagna queste cose è inguardabile gli ambienti lasciamo stare polistirolo da tutte le parti sono uguali in tutti i modi non c'è un minimo di stile reale probabilmente metà degli ambienti li hanno riciclati da clopata lo dico senza vergogna i vestiti i vestiti sono sempre quelli ma un minimo di ricerca sbattetevi un pelo santo cielo non sono difficili da fare i vestiti dell'epoca invece sono sempre quelle mezze toghe che vanno bene per fare un romano del terzo secolo un persiano del quarto secolo avanti cristo un personaggio della bibbia sempre uguali con le stesse armature di finto cuoio inguardabili sempre scure con i mantelloni giganteschi insomma sempre le solite quattro orribili sempre i soliti quattro orribili stracci che ripeto in una cosa come xina principessa guerriera pazienza ma in queste cose santo c'era un documentario metteteci tanto così nessuno vi obbliga a fare la parte recitata drammatica vi prego usate tanto così di buon gusto nel fare quei vestiti invece no prendono i soliti quattro fondi di magazzino li aggiustano alla belle meglio e li fanno andare via così e la serie è tutta così è tutta così è una disgrazia totale tra l'altro dal punto di vista della divisione di quello che racconta è anche disastroso perché la prima parte della vita di Alessandro Magno viene completamente balzata cioè si passa intorno al minuto 15 siamo già ad Alessandro Magno che invade la Persia è minuto 15 della prima puntata da 50-50 minuti di 6 quindi ci siamo balzati tutti i rapporti con la Grecia cioè non c'è neanche una voce fuoricampo che racconta tutto questo sembra che veramente Alessandro Magno passi da pestare e festione con la spada a combattere i persiani nel giro di una frazione di secondo poi come sempre nonostante ci sia tanto tempo per poter raccontare perché insomma stiamo parlando di una cosa che tutta insieme durerà tre ore più di tre ore però tutto viene raccontato male tagliando delle parti perché? perché bisogna far vedere queste scene infinite di gente che parla che dice sempre le stesse cose che si fissano con fare sua dente e bisogna concentrarsi sulle scemenze cioè tanto per fare un esempio una delle prime scene in cui compare Cersei è lui che sta vuole far costruire un tempio con i soldi che arrivano dall'Egitto ora si capisce che il senso di quello è cercare di iniziare a introdurre l'idea che l'Egitto sarà importante per la sua ricchezza e così via ma la scena è lunga non dice nulla e occupa solo del tempo perfettamente inutile e di scene così è piena tutta la narrazione ora ripeto spiace dirlo ma il modo in cui tutto questo viene raccontato non si può sentire e io francamente una cosa del genere non saprei veramente a chi consigliarla perché anche una persona che di Alessandro Magno non sa nulla da una serie del genere continuerà a non capire nulla perché da una serie del genere sembra veramente un uomo catapultato sul campo di battaglia contro i persiani che vince delle mischie caotiche nonostante all'inizio anche qui fa ridere Alessandro Magno viene presentato come il più grande stratega della storia e possiamo discutere grande filosofo filosofo grande inventore inventore ma che cosa vi siete fumati per dire queste cose insomma nonostante questo di Alessandro Magno si capisce solo che uno un po' pazzo che è a quanto pare abbastanza bravo a combattere e che in qualche modo riesce a sconfiggere i persiani ma del resto non si capisce nulla per favore ripeto ridatemi il personaggio di Alessandro Magno in Alexander di Oliver Stone che era un piagnucolone ma almeno era un personaggio reale e non era un cartonato spostato per le scene ora chiudiamo la parentesi su Alessandro Magno e diciamo due parole anche sull'altro prodotto prima di arrivare al discorso finale l'altro prodotto ve lo dico subito un prodotto decisamente più degno si chiama seconda guerra mondiale voci dal fronte ed è un prodotto dedicato ovviamente alla seconda guerra mondiale anche qui un documentario di quattro puntate grossomodo sulla cinquantina di minuti chiedo scusa anche qua sei puntate grossomodo sulla cinquantina di minuti l'uno la quale è in realtà in questo caso non un docudrama ma un vero e proprio documentario perché non c'è una parte recitata ma è tutto fatto con i filmati d'epoca ora filmati d'epoca un po' aggiustati e so che questo può non piacere a tanti perché hanno preso i filmati originali della seconda guerra mondiale dei vari momenti della seconda guerra mondiale li hanno ripuliti li hanno rimessi un po' a posto palesemente usando il computer la qualità è molto migliorata e soprattutto li hanno ricolorati cosa che so che a tanti non piace perché tanti dicono eh ma in questo modo si va a rovinare il prodotto originale ma che secondo me invece funziona perché riesce a rendere quello che stai guardando le facce dei soldati i civili gli attacchi le violenze e tutto in un modo molto più reale perché diciamolo chiaramente il bianco e nero soprattutto il bianco e nero vecchio che andava un po' a scatti ci dava un'idea di scarso realismo e rende faticoso immedesimarsi in quello che si sta guardando tanto che a un certo punto la guerra che viene raccontata sembra veramente solo un insieme di cifre e numeri con dei personaggi che non sono degli esseri umani reali ma sono solo dei soldatini che si muovono su un plastico bene ricolorando questi filmati invece si restituisce un qualcosa di molto più realistico che secondo me funziona e almeno a me ha fatto un grande effetto a questo si aggiungono peraltro e per questo si chiama voci dal fronte tutta una serie di testimonianze prese da soldati civili politici che realmente hanno vissuto durante la seconda guerra mondiale credo alcune registrate e per una volta tanto non sono solo dalla parte vincitrice ma ci sono anche delle testimonianze di piloti soldati tedeschi e così via insomma un prodotto che almeno da questo punto di vista funziona abbastanza quello che invece non funziona però è la parte più prettamente documentaristica cioè la parte di racconto perché oltre alle immagini oltre alle ovviamente alle testimonianze c'è anche però la classica voce fuori campo che racconta che cosa si sta guardando ora io non pretendo che un prodotto del genere sia destinato a un appassionato di storia che conosce benissimo la seconda guerra mondiale e che quindi potrebbe guardare le immagini magari solo con ogni tanto una data e un nome e non avrebbe bisogno di nessuna spiegazione capisco che ci debba essere un po' di spiegazione per chi non conosce bene la seconda guerra mondiale però santo cielo cercate di farle un po' meglio queste spiegazioni dicono sempre le stesse quattro vietà il primo settembre 1939 la Germania invade la Polonia le forze tedesche avanzano rapidamente i polacchi non riescono bla 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 i soldati americani dopo per Arbur iniziano ad arruolarsi inizialmente nel Pacifico bla 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 solite cose che sono trite ritrite e che vi giuro anche solo avendo studiato la seconda guerra mondiale alle medie o alle superiori ovviamente la maggior parte delle persone le sa il risultato è che se visivamente ci si perde a guardare quelle immagini ogni volta che parte la voce che racconta qualcosa ti viene da dire sì grazie lo so mi ha infastidito dall'idea di quell'amico petulante che ripete sempre le stesse battute a cui non puoi dire per favore stai zitto perché è un amico in questo caso non puoi dire per favore stai zitto perché stai parlando una televisione e non sei nonno Simpson che si arrabbia con le nuvole bene tu non puoi dirgli di star zitto perché poi vuoi vedere il resto però ti infastidisce ogni volta che parla insomma è una di quelle cose che madonna ti fanno veramente venire la rabbia ora al netto di tutto questo al netto del fatto che ripeto però come serie è godibile al netto di questo aspetto ripeto dal punto di vista visivo anche per un appassionato di seconda guerra mondiale secondo me merita peraltro io avevo fatto una vecchia recensione di un film documentario We Shall Not Grow Old dedicato alla prima guerra mondiale in cui era stata fatta la stessa cosa con i filmati della prima guerra mondiale erano stati rimessi a posto dal punto di vista della velocità colorati e lì forse l'effetto di realismo era ancora più forte di partecipazione a quello che avviene magari vi metto trovate la recensione nella playlist che trovate in descrizione però al netto di questo sono due prodotti che secondo me in qualche modo spingono a ragionare di un aspetto cioè questi prodotti alla fin fine a chi sono dedicati ecco è una domanda secondo me interessante perché fatto bene o fatto male questi prodotti sono palesemente dedicati a chi magari ha qualche interesse nella storia ma in realtà di cose ne sa poche perché se fossero dedicati a persone che di cose ne sanno parecchie non sarebbe necessario provare a raccontare le ovvietà non sarebbe necessario passare 20-30 minuti a parlarci in maniera molto vaga di quanto fosse grande dell'impero persiano quante persone ci abitavano e che prima si sono scontrati con i greci e così via perché sono tutte cose che sappiamo e sarebbe invece molto più interessante provare a raccontare degli aspetti più specifici magari legati a come si viveva nell'impero persiano come si viveva realmente alla corte macedone non parlando di ovvietà non dicendoci Alessandro Magno era omosessuale ma parlandoci di come funzionasse realmente la sessualità all'epoca quelli sarebbero discorsi interessanti ma ma ci vorrebbe del coraggio ecco questi prodotti non sono ormai destinati semplicemente ad essere lasciati lì in sottofondo se andate a guardare tanti documentari naturalistici che sono usciti negli ultimi anni molti dei documentari più recenti hanno deciso di puntare su un qualcosa di diverso rispetto a una volta cioè si sono resi conto che se 30 anni fa 40 anni fa uno guardava il documentario ambientato nella savana perché non aveva altro modo per avere informazioni su un leone oggi basta aprire internet e tutte le informazioni che uno vuole tutti i filmati di leoni che mangiano gazzelle che uno vuole li si può trovare ma se guardo un documentario naturalistico lo faccio perché innanzitutto voglio vedere delle immagini meravigliose voglio vedere qualcosa che mi stupisca qualcosa che non posso trovare su youtube e soprattutto voglio che degli esperti mi raccontino delle particolarità che da nessun'altra parte riesco ad ascoltare che mi diano quella chicca in più che posso capire perché per carica non mi posso piegare qualcosa di troppo complesso se uno non è esperto ma quella chicca in più che mi faccia dire alla fine quello che ho visto non è la solita minestra riscaldata ma è qualcosa di bello ecco tutto questo i documentari a tema storico di solito non lo fanno di solito si limitano a ripetere sempre la stessa pappa pronta e non aggiungono nulla non aggiungono nulla alle nostre conoscenze storiche non aggiungono nulla alle nostre particolarità quasi come si vergognassero di chiedere a degli storici di dargli dei suggerimenti su cosa raccontare quasi come se nelle due ore in cui devono raccontare un certo avvenimento fossero obbligati per legge a mettere tutte quelle ovvietà che purtroppo occupano un'ora 59 minuti 59 secondi e rimane giusto un secondo per scrivere fine e alla fine il prodotto è chiuso manca tanto coraggio lo abbiamo detto qualche settimana fa parlando dei remake di Ghostbuster anche in questi documentari storici manca del coraggio del coraggio di pensare che non tutti quelli che guardano questi documentari lo fanno perché hanno mangiato pesante e si sono addormentati sul divano alcuni li guardano perché se sono fatti bene se sono fatti bene possono attirare possono insegnare qualcosa in più certo mi rendo conto che forse non è il come si chiama non è il il parterre non è l'audience più grande del mondo perché noi appassionati di storia non è che siamo esattamente il 90% della popolazione ma è una fetta di persone che probabilmente volentieri anche pagherebbero un abbonamento per poter avere dei prodotti ben fatti altrimenti altrimenti le altre cose le posso cercare su internet i prodotti naturalistici i documentari naturalistici questo lo hanno capito i documentari storici lo capiranno o continueranno semplicemente a essere ripeto qualcosa da mettere in sottofondo quando non si sa cosa guardare in televisione e so già che tra tre minuti mi addormenterò sul divano bene se volete addormentarvi non mettete quello su Alessandro Magno perché fa talmente schifo che vi assicuro vi svegliereste però credo che abbiate capito il concetto e voi fruite ancora di questi documentari c'è qualcosa che mi potete consigliare da questo punto di vista ormai dobbiamo abituarci a questa orribile mediocrità che al massimo recupero un po' dal punto di vista visivo ma dal punto di vista del racconto e nel nulla più assoluto direi che per oggi è tutto di sproloquine avete sentite abbastanza credo vi siate anche divertiti nel sentirmi arrabbiato io voglio tornare a vedere delle cose decenti perché voglio parlare di cose decenti non sempre solo di porcherie ad ogni modo come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon e a chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti in particolare oggi il mio ringraziamento va a Francesco Pedelini grazie mille tantissimo per il tuo aiuto che dura ormai da più di un anno quindi veramente tanto tante 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 grazie ad ogni modo per il resto io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che meriterebbero anche di essere raccontate meglio di come fanno certi prodotti storie che sono ancora più incredibili di quanto un regista o uno scrittore possano immaginare peraltro ad Alessandro Magno io in passato agli inizi dell'epidore di storia avevo dedicato una piccola serie di quattro puntate che è una delle cose che vorrei assolutamente rifare perché dura pochissimo ho dato pochissime informazioni oggi la rifarei e durerebbe molto molto di più messa da parte quella che ripeto un giorno la rifaremo se invece volete curiosare tra alcune di altre di queste curiosità altri video di storia qui a fianco c'è l'elenco dell'epidore uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pidora di storia a presto ciao ciao ciao